Il progresso è quell'energia, quella forza che ci spinge a cercare un domani migliore. La mia storia of progress come imprenditore è una lunga storia. Io arrivo da un'azienda che è stata fondata da un mio antenato il 1 luglio del 1615. In questi 400 anni di storia si sono ripetute le generazioni di coloro che ancora oggi lavorano da noi, perché fare carta ha a che fare anche con la passione, che è l'ingrediente più importante nel riuscire a fare impresa. Il nostro è un settore nel quale produciamo beni che tutte le persone quotidianamente usano e quindi dobbiamo per forza migliorare le performance nelle nostre aziende, riuscire a recuperare più carta riciclata possibile e nello stesso tempo essere sempre a salvaguardare l'ambiente nel quale produciamo i nostri prodotti. Le sfide che prendo tutti i giorni come imprenditore sono quelle di riuscire a immaginare un'azienda, un gruppo di aziende che sia sempre al passo con il mercato, con i bisogni delle persone, dei nostri clienti che utilizzano ogni giorno i nostri prodotti. E dobbiamo far sì che questi siano prodotti sempre più sostenibili che possono essere di facile utilizzo e soprattutto di facile riutilizzo. Grazie a tutti.